Un anno di preproduzione per questo progetto musicale che mi vede coinvolti insieme a musicisti provenienti da Novara, Verona, Mantova, Milano, Roma e per te che sei un addetto ai lavori ti contatterò direttamente per comunicarti il nostro sito internet, generarti la tua password e accedere così per ascoltare i brani che abbiamo messo a disposizione per te, leggere la nostra presentazione e iscriverti alla nostra mailing list per seguire gli sviluppi di questo progetto musicale e informare i tuoi lettori di cosa stia arrivando dal panorama metal italiano destinato al mondo intero